Primo spettacolo In che modo questo Pinocchio esce, diciamo così, dall'ombra di Disney che in qualche modo credo che per chi si avvicini ad una trasposizione cinematografica della favola di Collodi poi in qualche modo ci sia stata questo è un Pinocchio, è il Pinocchio di Dalot nel senso che è un Pinocchio che diventa originale Io proprio quando Massimiliano Gusberti di Rai Fiction, all'epoca c'era Massimiliano adesso è andato in pensione, mi chiese di fare un Pinocchio io dissi subito che deve essere un Pinocchio su cui nessuno può dire ah ma ha copiato, ah ma si rivede deve essere una cosa completamente diversa apposta scelsi subito un autore come Lorenzo Mattotti che ha una grafica completamente originale seppure con fortissime radici culturali italiane io parlo, si vede dentro il suo lavoro si vede molta metafisica ad Echirico ma si vedono anche i grandi paesaggi del Beato Angelico si vedono tante belle cose nella nostra cultura mi diceva un mio caro amico alla prima di lunedì che sembrava un viaggio nella storia dell'arte questo film tutto questo perché mi sono perso il filo Disney ha fatto un bellissimo film che non è Pinocchio ha invertito i certi valori che sono nel libro o almeno che io ho interpretato così nel libro io credo che gli autori debbano essere rispettati non tanto nella struttura drammaturgica ma in quello che vogliono dire e io non mi sono trovato davanti un Pinocchio scansa fatiche Villano, Bugiardo mi sono trovato davanti un bambino e quindi ho cercato di capire perché questo Pinocchio bambino aveva tutti questi problemi in un mondo di adulti è una questione di codici alla fine Pinocchio è un essere appena venuto è come se fosse un marziano che precipita sulla terra lui quando parla con il gatto e la volpe che gli propongono di piantare quattro monete d'oro in un terreno per far nascere un alberello con migliaia di monete d'oro se io non conosco i codici e so che non è possibile sarei molto contento anch'io di accettare tutto sommato come non sono contento di andare a scuola se devo andare a scuola alle sei e mezza di mattina in fondo quello che fa Pinocchio è quello che fanno tutti i bambini di oggi cascano in un mondo devono scoprire i meccanismi, i codici l'ipocrisia del mondo in cui cascano a quel punto diventano come gli altri ma la domanda è è giusto che diventino come gli altri? 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 è giusto che diventino come gli altri?